Bella ragazzi eccoci sono Keister Rail, allora oggi vogliamo fare qualcosa di diverso, voglio prendere un po' di dati che Prideben ha rilasciato su una base di circa 4000 player, su che personaggi vengono utilizzati di più in Memory of Chaos e in generale comunque vediamo che prendiamo una fetta di pubblico adesso non so se si riesce a leggere qua sotto ma comunque il 17% è totalmente free to play quindi l'8% prende solamente il mensile quello con le 3000 jam e passa quello che è e il 40% prende pass e mensile che questo secondo me è la fetta di pubblico più ampia del gioco che prendono sia pass e mensile ogni mese e comunque il 12% ha speso meno di 100 tra il 13% tra 100 e 500 dollari e sopra i 500 dollari il 6% insomma no? quindi c'è un po' di tutto ma la fetta grossa è quella che prende solamente pass mensile più totalmente free to play comunque detto questo iniziamo vediamo un po' che cosa abbiamo i numeri alla mano insomma no? e abbiamo i personaggi che appaiono di più nei team delle persone ovviamente è chiaramente molto spostato sulla presenza di banner limited ma anche alla spesa che c'è stato su questi banner limited e anche secondo me alle date rilascio ma comunque infatti vediamo che è molto è molto da free to play anche la percentuale secondo me perché abbiamo Zele che ha un 79.80% di utilizzo che è altissimo perché ovviamente è stato primo banner e un'ottima unità l'hanno pullata in tanti dopo con Jingyuan giustamente i free to play non avevano pull l'hanno lasciato lì in quel senso lì a maggior parte o comunque una buona parte buona parte l'ha comunque pullato e poi con Silverwolf è stata presa tantissimo perché sappiamo che Silverwolf è come si diceva già come dicevo già da tempo Silverwolf è quel personaggio che secondo me in Star Rail ha più valore in assoluto almeno per il momento e non nel senso che il suo valore calerà ma che uscirà qualche personaggio con un valore ancora più alto ma vedremo insomma ma comunque Silverwolf ha un sacco di valore è stata pullata tanto quanto Zele in quel senso lì quindi fantastico e poi chiaramente dopo Silverwolf abbiamo la presenza di Luosha che però è uscito ancora anche da poco e le persone devono ancora livellarlo dagli materiali quindi diciamo che Luosha non è indicativo di quante persone ce l'hanno secondo me è più indicativo di quante persone lo hanno già ad un punto dove è utilizzabile in gioco ok diciamola così comunque lasciando stare i limited che quindi sicuramente sono utilizzati e tra i personaggi standard ovviamente è un po' difficile riuscire a dare una percentuale di utilizzo dei personaggi standard perché devi trovarli no? ognuno di voi ha delle combinazioni di personaggi standard trovati diversi che siano Eidolon, alcuni non hanno trovato personaggi, hanno trovato Lightcon quindi diciamo che in generale quanto vedi un'unità qui non mi fa impazzire sotto quell'aspetto lì perché al momento è troppo presto, è passato troppo poco tempo dal rilascio del gioco per dare un'importanza alle percentuali che vediamo qua nel senso, se io faccio Memory of Chaos adesso e se lo faccio tra 6 mesi tra 6 mesi è più probabile che molte persone abbiano più personaggi standard 5 stelle e che quindi ci sia più probabilità che alcuni personaggi non vengano usati perché semplicemente le persone non li hanno quindi non mi fa impazzire questo numero qua difatti non sono qua per parlare dei numeri in sé per sé ma anche per discutere del fatto che questi valori secondo me per adesso non hanno troppo valore almeno per i 5 stelle mentre per i 4 stelle è abbastanza interessante infatti adesso li guardiamo comunque Byrugeopard, Brogna, personaggi più utilizzati c'è da dire che molte persone hanno rerollato per questi personaggi all'inizio forse per Geopardo no ma all'inizio le persone erano tristi di trovare il Geppo però poi tutti felici e fortissimo, un bellissimo personaggio comunque Welte e Clara stanno salendo Yanshing giustamente ha l'utilizzo che ha e poi c'è Imeko che ha una bassa percentuale che per me è assurdo perché gli ultimi piani di Memory of Chaos almeno l'8 e il 9 sono quasi totalmente sull'elemento fuoco e secondo me Imeko gioca benissimo in questo Memory of Chaos patch 1.1 devo essere onesto penso che Imeko giochi benissimo penso che Clara giochi benissimo penso che Geopardo giochi benissimo secondo me per questo 1.1 è sceso un pochettino Yanshing tranne che in alcuni piani ed è sceso un pochettino forse Bailu con l'esistenza di Luosha ma non credo per chi che aveva Bailu la sta usando no? quindi non lo so comunque vabbè per i 4 stelle ovviamente Natasha il personaggio più usato chiaramente Lillard Tingyun la seconda perché Tingyun è la migliore e penso che sia quasi il miglior personaggio in gioco se posso dirla così abbiamo Yukong al 3.76% per dei motivi ovvi uno è appena uscita quindi se non hai pullato non ce l'hai e seconda cosa per chi ce l'ha deve ancora magari buildarla quindi c'è anche il problema del quanto tempo l'ho buildata quindi questo 3% su Yukong viene da dire che sarà qualcuno che effettivamente ci ha speso qualcosina e poi c'è anche un discorso di capire ottimizzazione se Yukong va meglio di qualcuno eccetera eccetera quindi Yukong percentuale bassa qua non ha valore insomma come riferimento perché è troppo presto diciamo che nella 1.2 si parlerà molto meglio di presenza di Yukong nei team eventualmente anche perché è molto difficile che Yukong secondo me veda un valore di gioco alto quando c'è una Bronia al 40% di utilizzo ok io dubito che vedremo team con Bronia più Yukong sono due personaggi che spendono troppi skill point per essere giocati insieme e secondo me chi ha livellato Bronia non livellerà Yukong se non per fare i team specifici ma in quel caso lì stiamo parlando della presenza è sicuramente di Welter o sicuramente di Luosha quindi le percentuali penso che rimarranno relativamente basse ovviamente ma in character fuoco molto utilizzato per via della presenza enorme dell'elemento fuoco in questo Memory of Chaos e dell'Arena e Marzo 7 sempre verde molto comoda Pela ovviamente con un Memory of Chaos dove debuff ai nemici e comunque la meccanica di debuff che ci può fare più danni è super presente molto importante Asta personaggio sempre verde su Shang la usi qua nelle emizioni debole al fisico quindi fantastica e poi abbiamo un po' di personaggi usati meno il che mi stupisce è Serval solo 11% perché per me Serval è utilizzatissima in questo Memory of Chaos penso che quasi in ogni piano tu possa utilizzare Serval in questo Memory of Chaos forse tranne in due e tre forse tranne in due piani credo mi stupisce 11% di Serval e penso sia legato alla presenza di Jingyuan al 50% però non so ripeto qua stiamo parlando di un pubblico che ha e 4000 persone è poco è veramente poco insomma non abbiamo dei riferimenti molto buoni tra l'altro non tutte queste 4000 persone hanno secondo me fatto Memory of Chaos dall'1 almeno fino al 7 ok quindi non penso che ci sia un riferimento buono QQ al 6% che purtroppo è legato alla presenza di Zela all'80% però Xinxue è un personaggio formidabile perché mi segue in live sta vedendo che razza di mostro sta diventando questo personaggio una volta che fa l'80% con neanche delle relic buone diventa veramente forte con Yeidolon diventa a tutti gli effetti uno dei migliori personaggi del gioco a mio parere ma comunque QQ secondo me la presenza di Zela la manda un po' indietro però per chi non ha pullato Zela invece sta utilizzando un personaggio quantum che secondo me gli sta dando parecchie gioie soprattutto poi in presenza di una Silverwolf quindi questa percentuale ha senso le percentuali di Serval e QQ hanno senso in ottica della presenza di Zela e Jingyuan mentre per quanto riguarda Dan Heng Dan Heng non piace a molti quando in realtà è molto forte e l'esistenza della sua trace che gli da penetrazione elementale vento è devastante rendendo uno dei DPS con potenziali di danno più alto del gioco a mio parere e l'unica cosa di Dan Heng è che secondo me lo usano in pochi perché molte persone lo stanno aspettando Blade ma io non credo che Dan Heng lo usino in pochi in realtà penso che lo usi tanta gente semplicemente non è abbastanza tirato su e portato su da poterlo giocare in Memory of Chaos questo penso sia il problema al momento per alcune persone io penso che quindi ci sia la gente che non l'ha ancora tirato su abbastanza e poi quelli che stanno aspettando Blade che chiaramente non livellano un personaggio vento perché è in arrivo Blade no? Yukong abbiamo visto main character fisico ovviamente ha una percentuale bassa di utilizzo perché quella del fuoco è molto alta ma c'è da dire che in spot fisici il main character fisico è molto 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 forte è super sottovalutato da un sacco di persone per me e questo è un altro insieme a Dan Heng che hanno i moltiplicatori più alti del gioco anche più alti dei 5 stelle in realtà quindi tremendamente forte molto sottovalutato ma capisco che la presenza alta di main character fuoco sia la conseguenza sia il motivo per il quale il main character fisico invece è giocato poco Sampo purtroppo 3% perché non c'è a parte che ovviamente Sampo è in attesa di una Kafka per essere giocato in un determinato modo o comunque per essere giocato DPS bene ha bisogno di Eidolon in quel senso lì però secondo me la variante break effect di Sampo è giocabile in tutti i livelli di memory of chaos semplicemente non sta venendo parlata né scoperta né toccata ma se volete un po' sapere di più sulla variante break effect di Sampo ho fatto un video ve lo consiglio molto carino molto carino tra l'altro livellare Sampo non ti vieta in nessun modo di giocare blade e quindi è un'ottima opzione a prescindere e vabbè in generale è un buon pg huk 2.7% mi stupisce perché per me huk dopo qq penso sia allora io ho una ho una mia tier list personale di personaggi 4 stelle nel gioco e dove qq serval e huk sono i tre migliori personaggi 4 stelle del gioco ok a livello i dps sto parlando ma anche sopra volendo anche i 5 stelle in base alle build insomma comunque huk tremendamente forte mi stupisce vederla al 2.7% considerando quanto elemento fuoco c'è nel memory of chaos c'è da dire che però la presenza di silver wolf rende anche un po' reali tutte queste percentuali quindi abbastanza interessante herta e arlan no love e quindi rip anche se herta secondo me un po' di persone la stanno iniziando a portare all'ottanta e a scoprire che è buildata bene crit eccetera eccetera rende bene arlan secondo me non è un personaggio giocabile in memory of chaos non ha un kit che ti consente di giocare arlan in memory of chaos o non ha un personaggio vicino che funziona bene con lui onestamente servirebbe uno shielder automatico per giocare arlan e al momento non ce l'abbiamo in gioco quindi pazienzina quindi per ora questa è la percentuale di personaggi che abbiamo visto in memory of chaos o comunque che hanno visto loro in questa pool di 4000 player e altre dati interessanti sono i team come vedete stesso discorso qua quindi siamo intorno ai 3800 player insomma quali sono stati i team che hanno visto di più in percentuale ovviamente se lei per carry team classico per fare piano 6 ad esempio ma anche altri piani anche se a me solitamente ma in character fuoco io fuori dal piano 6 non lo uso con questo team quindi non saprei perché ha una percentuale così alta probabilmente proprio in riferimento al piano 6 poi abbiamo mono jingyuan elettro con silverwolf jingyuan tingyuan bailu sensatissimo molto bello il fatto che ci sia una percentuale alta su 3800 persone che hanno jingyuan silverwolf e bailu mi stupisce parecchio però va bene e jingyuan hyper carry dove ovviamente al posto di bailu si mette main character fuoco al posto di silverwolf vabbè classici noi abbiamo tutti i team carry questo è un team che io sto utilizzando da di recente tra l'altro al posto di natasha metto l'uosha spesso ed è fuori di testa i team con clara sono penso quelli che risultano migliori di tutti perché clara è devastante e fa tutto quello che vuoi in un team quindi si che tu qua metti zele più silverwolf più clara che qua metti al posto di zele qualsiasi altro dps questi team con clara funzionano bene perché clara anche al di fuori di presenza di elemento fisico dei team avversari è un personaggio incredibilmente forte quindi mi aspetto mi aspetto che vedremo sempre più clara in giro pian piano che le persone le trovano e pian piano che le persone si rendono conto che clara è il miglior dps nel gioco al momento a mani basse 100% per via delle capacità di fare danno al di fuori dei suoi turni che tanto danno tra l'altro è enorme senza un investimento pesante a differenza di un a differenza di un carry dell'ant che ha bisogno di molto crit molto crit damage ha bisogno delle relic eccetera eccetera clara arriva a fare i danni quei danni lì molto prima con dei valori molto ridotti secondo me quindi veramente forte e nulla quindi questi sono dei team belli poi abbiamo chiaramente mono ice team enorme però per avere mono ice devi avere gepardo yanshing e silver wolf chiaramente no molto forte mono fisico molto forte solo perché c'è clara clara hyper carry team fortissimo anche questo perché clara basta e avanza a me preferisco i dual carry con clara il mono clara non mi fa impazzire ma però funziona benissimo anche quello e poi abbiamo tutti i vari dual carry hyper carry con clara eccetera eccetera come vedete clara si vede sempre di più mi stupisce di vedere poco wealth ma va in base anche alla percentuale di quante persone hanno pullato in quel senso lì e tra l'altro non c'è ancora luosha qua dentro quindi diciamo che questi dati penso si siano stati presi proprio negli ultimi giorni e non c'è ancora l'utilizzo di luosha sennò vedremo luosha molto più spesso e l'interessante da nanga hyper carry questo mi piace un sacco non capisco l'esistenza del main character fuoco in questa comp non me lo spiego infatti molte di queste comp però non hanno senso hook hyper carry questo è il team per questo team mi ha fatto clare piano 8 piano 7 8 e probabilmente anche 9 mi farà clare mi viene da dire appena porto hook all'80 fortissimo fortissimo e asta da troppo fire damage veramente forte al posto di hook potrebbe esserci ma ecco qua tranquillamente qua c'è monofire ma monofire se ci mettete hook è la stessa identica cosa l'unico problema qua è che manca l'healer quindi non lo so dipende da quanti danni fanno i vostri dps secondo me e poi abbiamo un qq hyper carry che è qualcosa che uso spesso ed è devastante questo è un team che ho utilizzato io per clirare il piano 6 nello specifico e nel secondo account con qq bella maxata eccetera eccetera devastante anche qua la presenza di silverwolf come vedete è ovunque quindi si silverwolf è sicuramente il personaggio più giocato del gioco secondo me non è sele è silverwolf io non mi trovo con le percentuali che dicono qua secondo me è molto più presente silverwolf di sele tutto qua quindi non lo so diciamo che il range di persone che hanno preso come esempio ha impullato tutti i sele quindi è bella lì però secondo me silverwolf è molto più presente poi un altro link che vi lascio che però non vi consiglio necessariamente di seguire è quali sono le build più usate da questi player che abbiamo appena visto in quel senso e onestamente molte cose che vedo qua non mi piacciono per niente raga per niente per niente io vi ricordo che ho fatto delle grafiche per le build tra l'altro aggiornate che trovate sul mio discord o sul mio canale twitch io vi consiglio di fare riferimento a quelle e alcune di quelle hanno già dei video dove ho parlato di quelle build che poi trovate effettivamente su youtube le continuo ad aggiornare io vi invito a fare riferimento a quelle molte delle cose che vedete qua non hanno assolutamente senso anche perché è un mix di 4000 persone che magari il 20% ha un'idea di cosa sta facendo e l'80% quindi non lo so comunque volevo semplicemente dirvi che c'è questa cosa vi lascio il link in descrizione che secondo me vi fate un'idea di come la gente gioca i personaggi ma secondo me anche voi vedete che c'è qualcosa che non va in molte scelte tra quelle che vedete qua dentro comunque e poi chiudiamo con dire che Pridewen ha fatto una nuova tier list adesso vi metto qui Pridewen ha fatto una nuova tier list per il memory of chaos patch 1.1 e niente non parlerò ve la faccio vedere mi farete sapere nei commenti cosa ne pensate e anche in base a quello che ho detto magari durante il video so che è durato tanto ma volevo un po' fare una chiacchierata a parlarvi di tutte queste cosette qua che hanno pubblicato io purtroppo Pridewen lo seguo molto l'ho sempre seguito per altri giochi e per Star Rail non mi fa impazzire ok diciamolo così a parte per le guide ovviamente tutte le guide route menu info eccetera eccetera fantastico quando parliamo di tier list e dati di Pridewen diciamo che non mi fa impazzire perché per me non hanno un'utilità vera e propria comunque vabbè per chi la voleva vedere questa è la tier list di Pridewen fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate noi ci vediamo in live su Twitch o al prossimo video un grazie di cuore a tutti ragazzi siete fantastici alla prossima e bella grazie a tutti Grazie a tutti